Io fan, bimbo di Erin Doom. Ciao, sono Erin Doom, autrice di Fabbricanti di Lacrime. Oggi sono qui con Simone e Caterina per testare la loro affinità con Nika e Rijel, i personaggi del mio libro, che è diventato un film grazie a Netflix. Siete pronti? Ci siamo. Io ci sono. Prima domanda. Che cos'è la delicatezza per te? Per me? Allora, la delicatezza è sensibilità. Credo sia un accorgersi delle altre persone, un accorgersi di chi ti sta intorno e soprattutto cogliere quello che ti sta intorno. Avere cura degli altri, avere cura di se stessi, rispettare. Questo credo sia la delicatezza. Per me la delicatezza è avere un occhio di riguardo verso un po' tutti e non essere quindi egoisti e pensare sempre a se stessi. In particolare, Nika è la delicatezza in persona, proprio perché lei si prende cura di ogni cosa, anche quando non ce n'è bisogno. Nika approverebbe molto questa risposta. Vero? È la mia falena. Di che colore ha gli occhi Rijel nel libro? Neri, nerissimi. Come la pece. Perfetta, una risposta perfetta. E fino a qui. Qual è il nome scientifico della farfalla da cui prende il nome Nika? Io lo so. Vuoi fare una prova? Nika? No, dico io. Nika Favilla. Ma io voglio sapere come ti è venuto in mente. Cioè, tu hai scelto il nome della farfalla o hai visto una farfalla che ti piaceva? E hai detto, ma perché non farci un personaggio? No. Nika inizialmente doveva avere il nome di un fiore, non di una farfalla. Si può dire quale? Non avevo deciso quale, però era nato prima come personaggio che come nome, al contrario di Rigel. E siccome la sua essenza volevo che si esprimesse anche proprio nel suo appellativo, volevo che avesse un nome molto delicato. Inizialmente, diciamo, l'idea era andata su un fiore. Poi ho pensato, ma cosa c'è di ancora più effimere, di ancora più delicato e fragile in un certo senso? E da lì ho pensato a una farfalla. Ok, questa è una domanda per entrambi. Cosa ti ha spinto a interpretare questo personaggio? Beh, assolutamente le somiglianze, le affinità che avevamo io e Rigel all'inizio. È stata una vera prova per me di maturità e di crescita, anche a livello professionale e umano, interpretare appunto un personaggio che all'inizio mi sembrava così distante. e poi invece mentre facevo le prove vedevo proprio le somiglianze, questa affinità con il lupo, questa tenebrosità. Quindi è stata un po' una sfida per crescere a livello personale e umano. Allora, innanzitutto per me Nick è stata una sfida. Ovviamente una sfida diversa rispetto a Rigel, però mi ricordo proprio quando ho preso il ruolo parlando, insomma, un po' con persone vicine a me, a livello lavorativo, mi hanno detto che effettivamente per interpretare un personaggio come Nick va fatta una destrutturazione, no? Per cui noi siamo abituati a vivere in una società, in un mondo in cui mai puoi essere tanto delicato, tanto fragile per esigenze. Ecco, invece fare questo ruolo è stato proprio come diventare bambina, ritornare bambina, ritrovare quella bambina interiore e questa spensieratezza che molte volte va via troppo presto. Come mai Nick ha sempre i cerotti? Rispondi te. Posso interrogare anche voi? Va bene, va bene, va bene. Faccio io. Vai. Allora, perché a differenza di Rigel Nick ha si prendeva molto cura degli animali, in particolare quando era all'orfanotrofio, ma poi anche dopo, e prendendosi cura veniva spesso morsa da questi animali e lei si metteva appunto i cerotti per coprire le ferite. Sì, in particolare dei lupi. Ferite dei lupi. Metti un cerotto. Posso chiederti perché nel libro hai scelto proprio per la scena quella della febbre, il cerotto di colore viola? Ma ti ricordi proprio un dettaglio? Eh, io fan, il bimbo di Erindun. Perché il viola è sempre stato, secondo me, un colore molto frainteso. Molte volte viene considerato magari un colore sfortunato, no? In tante occasioni. È molto controverso. Io invece l'ho sempre trovato bellissimo e quindi è diventato un po' un simbolo, no? del legame tra Nika e Rigel con questo cerotto viola che lei mette un po' sul cuore e quindi è un colore legato comunque al mistero, all'arcano, quindi un po' alle tematiche di fabbricante, quindi così. Ma posso farvi una domanda per curiosità? Ma voi come vi siete conosciuti sul set? Mi ricordo benissimo questa, lei che fece la scena del tribunale e mi vennero i veri viti. E infatti quando pure il regista mi chiese chi preferisse, lei assolutamente era stata in... Così alziamo troppo le aspettative. Aspetta un attimo. Aspetta. Io l'ho detto. E poi invece, ci siamo conosciuti meglio durante le prove, quindi prima di iniziare le riprese abbiamo fatto un periodo di prove in cui magari facevamo un po' di letture, un po' di lezioni anche giusto per conoscerci. Essendo poi infatti anche un film molto fatto di interazioni tra me e lei, erano cose pure fisiche, gioca molto su quella cosa che ci sta, un po' di tensione. E non bisogna essere ovviamente strane, ecco, quindi ci siamo conosciuti. Sì, sì, abbiamo provato molto questa cosa della tensione che poi è il... Dove si basa un po' tutta la linea del film. Ma comunque veramente sorpresa dalla vostra preparazione. Siete stati molto bravi. Abbiamo studiato e se volete vedere Fabricante di Lacrime... Aspettiamo il 4 aprile perché uscirà su Netflix. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.